buongiorno a tutti sono mikweb del forum oggi faccio un piccolo tutorial di base vi spiegherò come usare l'effetto cc lens per ottenere una cosa tipo questa ecco ti ho visto questo effetto di palla insomma ecco questo qui mando un attimo indietro l'effetto consiste questo è un tutorial di base può sempre essere utile per qualche piccola intro veloce veloce può sempre stare utile ecco qui questo è l'effetto finale una semplice foto che ho scaricato da internet mi piaceva questo ho preso questa la importiamo qui sulla nostra composizione cosa facciamo andiamo qui a destra sotto effetti predefiniti cerchiamo il nostro cc lens che questo lo trasciniamo sulla foto sulla nostra composizione otterremo già questa forma di sfera questo plasma insomma lo trovo molto affascinante come lo impostiamo semplicemente qui questa è la grandezza mettiamo a zero facciamo partire ad esempio a un secondo mettiamo un keyframe poi dopo due secondi e mezzo qui aumentiamo la grandezza in modo che sia pieno poi lasciamo qui così qui possiamo scrivere un testo un titolo quello che volete per arrivare alla fine vado qui a sette secondi la riporto lascio accendo di nuovo un keyframe quindi vado vado qui metto un altro keyframe e secondo 9 abbasso di nuovo la grandezza così l'effetto sparisce come avevo fatto prima nel filmato l'effetto è questo parte la composizione parte il film qui avremo la nostra sfera la chiamo sfera di plasma questo l'ho fatto con una foto lo potete fare anche con un video l'idea è di creare una piccola intro un piccolo titolo per coloro che non sono così esperti di after effects infatti è un tutorial di base a questo punto per renderlo ancora più realistico andiamo qui dove è la foto schiacciamo p per posizione schiacciamo p per posizione eccolo qui e dove incomincia la sfera diciamo qui ci aggiungiamo un keyframe quando la sfera diciamo si espansa aggiungiamo un altro keyframe qui verso la fine la stessa cosa qui quando comincia a deformarsi di nuovo un altro keyframe quando si è deformato dal tutto qui così metto un altro keyframe adesso cosa facciamo adesso rendiamo il senso dell'esplosione come si fa prendiamo questi due keyframe deformazione di movimento questo se voi non lo avete lo andate a trovare sotto finestra e dovrebbe essere qui deformazione di movimento se lo spuntate lo avrete qui a disposizione si può fare anche con un altro modo ma così per coloro che non sono esperti è più facile abbiamo preso questi due keyframe andiamo la frequenza 12 e 45 sono valori messi a caso faccio questo cosa succede se io adesso faccio play vedete che la mia composizione tremula per dare il senso dell'esplosione ecco la stessa cosa faccio con questi keyframe un attimo che me li prendo eccolo qui applico così è più o meno il stesso movimento eccolo qui esplode e quindi traballa cosa succede quando applichiamo questo movimento qui ci sono degli spazi neri della composizione si può modificare anche questo che non è bello se traballa e qui vediamo gli spazi neri in parte della composizione andiamo su effetto stilizza e prendiamo porzioni in movimento porzioni in movimento spuntiamo bordi speculari e poi larghezza output aumentiamo ecco vedete qui il bordo nero è già sparito e lo facciamo anche per l'altezza output vediamo se va bene ecco non ci sono più bordi neri e abbiamo fatto il nostro aspetto spero di essere stato utile un piccolo tutorial per dare l'idea di come si può fare una piccola intro un piccolo titolo tutti coloro che non sono le prime armi con after effects un saluto da micweb del forum mi raccomando vi voglio sempre presenti veniteci a trovare al forum www.firstfx.net un saluto e buona giornata grazie a tutti